Se fosse il PD sceglierei il sottoscritto, potrebbe essere un'idea. Ci mettiamo tutti d'accordo, facciamo come il governo, il governo Draghi al pesto, chiamiamo il governo Draghi al pesto. La città ha bisogno di un candidato forte, non abbiamo bisogno di uno che parte per non vincere, perché così c'è un dibattito importante tra candidati forti che vogliono fare la città nuova, nuova no, diciamo che vogliono contribuire alla visione di città, fatto sulle cose da fare, non sulla demolizione delle cose fatte, perché non è che andiamo a demolire, noi andiamo a costruire, non si parla più di degrado, di crescita felice, mi sembra che se lo sono dimenticati tutti, noi parliamo di crescita, la città sta crescendo e dobbiamo continuare a fare una campagna elettorale dove i candidati dibattono su come si fa a crescere, non come si fa a demolire il prossimo o l'altro candidato, perché questo è tempo buttato via.